Buongiorno, buona domenica. Benvenuti a questo secondo ciclo delle lezioni di storia in collaborazione con gli editori La Terza, con il Teatro Nazionale di Genova e con il Goethe Institute. Un grandissimo successo anche quest'anno. Per questa prima lezione chiamerei qui sul palco il padrone di casa, Angelo Pastore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e Lodovico Steidl, responsabile delle iniziative culturali della La Terza. Allora direttore, un grandissimo successo quello dell'anno scorso, un grandissimo successo anche questo, con questa prima lezione. Sì, grazie a tutti, buongiorno, è un'emozione, io non sono mai in palcoscenico perché faccio il mestiere dietro al palcoscenico, ma è sempre bellissimo vedere una sala piena. Noi lavoriamo perché qua ci siano sempre grandi professionisti e begli spettacoli, ma senza le sale piene il teatro non ha senso, anche in queste occasioni. Siamo al secondo anno, scusate, di questa collaborazione con La Terza, cominciamo col professor Barbero. Io devo ringraziare Unipol che ci sostiene in questa iniziativa e in altre del teatro. Non voglio rubare tempo, sono felice, contento, perché come sapete in ogni ambiente, in ogni settore si vivono tempi duri e non bisogna mai abbassare la guardia a un secondo. Ma poi quando ci sono queste cose uno prende la carica e dice dai continuiamo. Grazie. Grazie direttore. A rappresentare La Terza oggi, Lodovico Steidl, che è responsabile delle iniziative culturali proprio per la La Terza, come è possibile, come vi è venuta l'idea di far raccontare questa storia alla letteratura? Ma dunque, intanto, oggi è una bella giornata, potreste essere a Camogli a fare una passeggiata, invece siete qua. Questa è la cosa che devo dire che da anni ci stupisce. Oggi, questa domenica 30 settembre, a Genova si consuma il primo atto di questo miracolo che ormai dura da 14 anni, per cui in 10-15 teatri noi portiamo le nostre lezioni di storia. Io credo che i motivi fondamentalmente siano due. Il primo è evidentemente la sete di sapere, una sete di sapere che non si ferma alla televisione e a Wikipedia, che pure fanno molto bene spesso il loro mestiere in questo settore. L'altro, però, molto importante, è quello della condivisione. È la stessa cosa che spinge le persone ad andare, voglio dire, allo stadio invece che a vedere le partite alla televisione. Cioè il fatto comunque di avere accanto a voi, in questo momento, sulle sedie, delle persone a cui vi sentite in qualche modo accomunati. Questa è la questione. E il fatto appunto di sentirsi parte di un gruppo, di un gruppo se vogliamo un po' particolare, di un gruppo positivamente elitario, diciamo. Lo dico in un senso assolutamente positivo, evidentemente. Ho detto appunto 14 teatri quest'anno, nel ciclo d'autunno, adesso mi dimenticherò qualche città, ma per darvi un'idea, Trieste, Udine, Trento, Genova, Torino, Milano, Roma, Bari, eccetera. Padova, mi piace darvi questa dimensione, la dimensione del fenomeno, anche il rischio, diciamo, che questo porti a pensare a una certa serialità che non è mai bella, diciamo. Perché alla fine, secondo me, deve prevalere proprio il fatto che le persone che sono oggi qui, queste 8-900 persone che sono oggi in questa sala, si sentano parte di questo grande gruppo di migliaia e migliaia di persone che in giro per l'Italia, come dire, pensano che sia bello spendere la domenica mattina, quest'ora così insolita, quest'oraria così insolita di un giorno un po' particolare, appunto come la domenica, per un evento come questo. Grazie davvero. Grazie mille, vi lasciamo scendere in platea. La storia come bussola, quindi a me viene in mente una frase di Hatzle che diceva che una delle lezioni più importanti che la storia consegna è quella che le persone, gli uomini, non imparino troppo dalla storia. Ecco perché è importante scrivere, raccontare, parlare della storia, forse ancora di più in questo periodo. E allora, questo è quello che faremo in queste domeniche e iniziamo con una star, una vera star della storia, il professor Alessandro Barbero. Buongiorno a tutti. Allora, professore, l'applauso dice che io non la devo presentare, ma insomma, qualche cosa diciamo. Mi limito a dire che il professore Barbero, che ovviamente voi conoscete, insegna storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, ci ha raccontato battaglie straordinarie, ci ha raccontato la storia come forse nessuno sa fare. Oggi ci racconterà Napoleone e l'arte della guerra, partendo da Guerra e Pace di Tolstoi. E allora, buona lezione. Grazie. 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 Sopra quella, il fumo non si era ancora dissipato. Due cavalieri francesi, certamente due aiutanti di campo, galoppavano su per l'altura. Ai piedi dell'altura, verosimilmente per rinforzare la linea, si muoveva una piccola colonna nemica. Il fumo del primo colpo non era ancora dileguato, che si vide un'altra nuvoletta di fumo e si udì un altro colpo. E' cominciata, ci siamo, pensò il principe Andrei, sentendo che il sangue gli affluiva più rapido al cuore. Ripassando in mezzo a quelle compagnie, che un quarto d'ora prima mangiavano la cascia e bevevano acquavite, egli vedeva dappertutto i medesimi rapidi movimenti dei soldati, che si allineavano e prendevano ciascuno il suo fucile, e su tutti i visi riconosceva la medesima animazione che era nel suo cuore. E' cominciata, ci siamo, è una cosa terribile e allegra, diceva il viso d'ogni soldato e di ogni ufficiale. E' l'inizio della descrizione di una battaglia in guerra e pace, di una battaglia minore. Sapete che in guerra e pace vengono descritte le più grandi battaglie combattute dai russi durante le guerre napoleoniche, Austerlitz, Borodino, ma questa è la descrizione di una battaglia minore, la battaglia di Schengraben, 16 novembre 1805, due settimane prima della battaglia di Austerlitz. Una di quelle battaglie che gli storici chiamano minori, ma che per quelli che c'erano dentro, evidentemente, minori non erano. 1805. Tolstoi scrive Guerra e pace negli anni 60 dell'Ottocento, mezzo secolo dopo i fatti. Quindi il suo è un romanzo storico. Noi rischiamo di non accorgercene perché sappiamo che il conte Tolstoi è un membro di quella stessa aristocrazia russa che descrive così bene dal di dentro nel suo romanzo e quindi in realtà per noi che lo leggiamo a tanta distanza di tempo cade un po' la consapevolezza che quello è un romanzo storico, ma lo è. Tolstoi era nato nel 1828, quindi racconta fatti di vent'anni, più di vent'anni prima che lui fosse nato. E fra l'altro lo dice, lo dice subito con molta chiarezza nella prima pagina del romanzo. Nella prima, ricordate che Guerra e pace si apre con due aristocratici che in un salotto conversano amabilmente in francese. Eh bien, mon prince, Jeanne, Genova, citata nella prima riga di Guerra e pace, Jeanne e Luc ne sont plus que des appanages, eccetera. E Tolstoi subito dopo commenta, parlavano in francese, dice, in quel francese ricercato, in cui non soltanto parlavano, ma pensavano i nostri nonni. Quindi il lettore di Tolstoi è avvertito da subito, si sta parlando dell'epoca dei nonni. Però, però è chiaro che visto da noi oggi italiani del 2018, comunque Tolstoi è molto vicino a quell'aristocrazia del tempo di Napoleone che lui racconta, è il nipote di quei nonni, li conosce benissimo. E soprattutto conosce benissimo la guerra, che ai suoi tempi non è tanto diversa, anzi potremmo dire che non è quasi diversa per niente, rispetto alle guerre napoleoniche. Tolstoi è stato ufficiale, ufficiale di artiglieria, tenetelo a mente perché ci torneremo. Tolstoi è stato ufficiale e ha combattuto nella guerra di Crimea, cioè nell'ultima guerra combattuta più o meno con le stesse tattiche e le stesse armi delle guerre napoleoniche. E quindi lui racconta le guerre di tanti anni prima, ma con un'esperienza diretta di cosa voleva dire combattere in quel modo, con un'esperienza diretta di che cos'era il soldato russo, di cos'era l'esercito russo. E quindi noi siamo legittimati, fino a un certo punto, a usare, sapete che qui la scommessa in questa nuova serie di lezioni di storia è di partire ogni volta dalla letteratura per vedere come la letteratura ci parla della storia. E noi siamo legittimati a usare, fino a un certo punto, guerra e pace come una chiave per entrare in quello che era l'arte della guerra al tempo di Napoleone. Tolstoi è dunque, da un lato, uno scrittore che è particolarmente forte quando si tratta di analizzare l'animo umano, di descrivere i moti dell'animo umano, ma dall'altra è un conoscitore tecnico di quello che racconta. Parlo della parte della guerra, in questo caso specifico, di quella metà del romanzo che racconta la guerra. È un conoscitore tecnico, ha ben presente cosa vuol dire un campo di battaglia, cosa sono i soldati, come funzionano gli eserciti. E ha ben chiaro, quindi, che una cosa importantissima è l'aspetto psicologico, cosa passa nella testa e nell'animo dei soldati durante il combattimento. Non è un di più, non è un qualcosa che può essere interessante sapere, è un qualcosa di fondamentale per capire che cos'è la guerra al suo tempo. I soldati sembrano e sono una massa anonima, impersonale, perché tutto il sistema è costruito sul fare di loro una massa anonima e impersonale. Oggi, lo sapete, i soldati continuano a vestire la divisa, ma anche nel nostro esercito ogni militare porta il suo nome sul taschino, si sta ritornando in qualche misura all'individuo, ma per alcuni secoli lo scopo degli eserciti era di cancellare e negare l'individuo e fare dei soldati delle unità di un meccanismo, tutti uguali. però al tempo stesso ognuno di loro rimane una persona e l'ufficiale Tolstoi lo sa benissimo e gli ufficiali e i soldati hanno reazioni psicologiche che sono importantissime per l'esito del combattimento. E qui avrà colpito anche voi. Tornerà spesso in altri brani che vi leggerò questa cosa. Tolstoi, che la guerra l'ha vista e i soldati in battaglia li ha visti, ci dice una cosa che credo nessuno di noi si sarebbe immaginato. Quando comincia il combattimento non c'è soltanto un'eccitazione generale ma c'è un senso di allegria temperato dalla consapevolezza che sta per cominciare una cosa terribile ma anche allegra. I soldati dell'esercito russo, i soldati e gli ufficiali dell'esercito russo che racconta Tolstoi in guerra e pace chi sono? Bene, i soldati sono servi della gleba perché nell'impero dello zar esiste ed esisterà ancora fino agli anni sessanta dell'ottocento proprio quando Tolstoi scrive guerra e pace verrà abolita la servitù della gleba in Russia. Sono quindi servi della gleba che i loro padroni su richiesta del governo che ha chiesto reclute hanno designato per il servizio militare per i 25 anni di servizio militare. Questo vuol dire che il soldato russo è un contadino analfabeta che molto giovane è stato strappato alla sua famiglia e al suo villaggio che quasi sicuramente non rivedrà mai più per diventare parte di qualcos'altro di un'altra comunità di un altro organismo la compagnia il reggimento l'esercito. Gli ufficiali no gli ufficiali sono tutti ufficiali che servono volontariamente sono nobili i quali decidono di fare la carriera militare ben inteso i nobili russi devono prestare servizio lo zar non guarda volentieri quei nobili che si limitano a vivere sulle loro terre e non prestano servizio in un modo o nell'altro nell'amministrazione o nell'esercito per cui in molti casi non dobbiamo immaginare che la scelta individuale fosse così libera ecco in molti casi ci saranno state pressioni forti che spingevano un giovane nobile a diventare ufficiale però è comunque una scelta e gli ufficiali ancora più dei soldati conservano per questo un po' del vecchio orgoglio che era quello dei cavalieri medievali e poi è quello dei mercenari del rinascimento e dell'età moderna l'orgoglio di chi dice io sono un soldato è una cosa che ho scelto liberamente liberamente ho scelto di rischiare la pelle io rischio la vita e per questo ovviamente però merito stipendi e privilegi e onore e l'onore del soldato sta nel fatto che obbedisce agli ordini senza discutere e senza chiedersi appunto quanto è grande il rischio di morire il soldato obbedisce e basta tanto più se è un ufficiale un nobile russo che serve lo zar questa cosa nel romanzo di tostoi viene fuori spesso caratterizza anche personaggi tra i protagonisti come quel principe andrei da cui ho cominciato il principe andrei è ufficiale c'è una scena all'inizio del romanzo in cui il principe andrei discute con il suo amico pierre come sapete sono due personaggi che non potrebbero essere più diversi il principe andrei è tormentato scontroso scontento di sé sempre alla ricerca di un proprio posto nel mondo ma anche però più conformista in un certo senso socialmente più conformista pierre è uno sbandato che per caso figlio illegittimo di un gran signore si è trovato a ereditare un'enorme fortuna e quindi a essere un membro in vista dell'alta società ma a questo non era preparato pierre è l'idealista che va dietro a tutte le utopie sono due persone che non potrebbero essere più diverse eppure sono amici e quando scoppia la guerra che porterà alla battaglia di austerlitz e il principe andrei si prepara a partire il suo amico pierre discute e dice pierre ora ora c'è la guerra contro napoleone se fosse una guerra per la libertà la capirei e sarei il primo ad entrare nell'esercito ma aiutare l'inghilterra e l'austria contro il più grande uomo del mondo il principe andrei si limitò a stringersi nelle spalle a questi puerili discorsi di pierre fece come se fosse impossibile rispondere a tali sciocchezze ma in realtà a quell'ingenua affermazione era difficile dare una risposta diversa da quella del principe andrei se tutti facessero la guerra per convinzione non ci sarebbero guerre disse egli e sarebbe una bellissima cosa disse pierre forse sarebbe una bellissima cosa ma questo non sarà mai ma voi perché andate alla guerra domandò pierre perché non lo so bisogna far così e ancora un'altra versione dello stesso atteggiamento che caratterizza l'ethos l'ideologia degli ufficiali discussione anche a mensa a tavola di un reggimento di cavalleria discussione appunto su quanto questa guerra contro Napoleone ci sia speranza di vincerla oppure no e il colonnello interviene a fermare la discussione noi dobbiamo batterci fino all'ultima goccia di sangue disse il colonnello picchiando sulla tavola e morire per il nostro imperatore e allora tutto andrà bene e ragionare il meno possibile egli poggiò la voce specialmente sulla parola possibile il meno possibile concluse così giudichiamo noi altri vecchi usseri ecco tutto ragionare il meno possibile sembra un paradosso perché noi oggi siamo abituati all'idea che far la guerra richiede intelligenza flessibilità iniziativa far la guerra al tempo di Napoleone queste cose le richiedeva soltanto a chi comandava l'intero scopo degli eserciti era di costruire dei meccanismi che non ragionavano ma procedevano meccanicamente secondo gli ordini poi ci si riusciva fino a un certo punto naturalmente ma l'intero scopo era quello immaginate voi avete reclutato 200 contadini analfabeti per prima cosa li mettete in divisa diventano tutti uguali in seconda cosa gli mettete in mano un moschetto e gli insegnate a caricare e sparare il moschetto già questo richiede un certo tempo e non è che si possa spendere chissà quanto tempo chissà quanti soldi per addestrare la truppa gli ha insegnato a caricare e sparare il moschetto operazione complicata poi questi 200 li metti tutti in fila e gli insegni a sparare tutti insieme non gli insegni a mirare al bersaglio sarebbe un'enorme perdita di tempo per pretendere di insegnare a ognuno di loro di sparare individualmente no gli insegni a stare tutti in fila a puntare quando l'ufficiale comanda puntate e a sparare quando l'ufficiale comanda fuoco e poi via tutti insieme ricaricare e di nuovo sparare li vuoi muovere gli insegni a marciare tutti insieme per aiutarli a capire gli abitui a riconoscere certi ordini semplicissimi sempre quelli standardizzati gli ufficiali in anticipo hanno imparato gli ordini che devono dare sempre con le stesse parole sempre quelli le trombe suonano gli ordini e si insegna a riconoscere quei tre o quattro motivetti diversi ognuno dei quali comporta muoversi fermarsi carica e gli uomini devono marciare gli uomini vestiti tutti uguali devono marciare tutti insieme allo stesso passo ci mettono qualche settimana per insegnare alle reclute qual è la destra e qual è la sinistra e che si marcia tutti allo stesso passo a forza di bastonate gli si insegna naturalmente prima di insegnargli a muoversi tutti allo stesso passo gli esperti hanno condotto studi approfonditi a che velocità è bene muoversi è meglio che il battaglione schierato quando viene l'ordine di andare avanti faccia settantasette o settantotto passi al minuto ogni esercito ha la sua regola gli esperti stabiliscono è meglio fare settantasette passi al minuto e il congegno si muove si muove o sta fermo secondo regole geometriche perché la guerra del settecento e dell'epoca di Napoleone è geometrica è un tentativo di mettere ordine nel caos ovviamente è un tentativo che non può mai riuscire del tutto ma la vittoria sta nell'avvicinarsi a questo ideale mettere ordine formazioni geometriche vi dicevo la linea il quadrato cosa vuol dire? vuol dire che se io ho la mia compagnia di duecento fantaccini ma intanto siamo in guerra da un po' moltissimi sono morti di malattia altri sono in ospedale qualcuno è morto in combattimento sono diventati cento io ho la mia compagnia di cento fantaccini e sto difendendo una posizione quindi devono sparare per sparare al meglio devono stare in linea un'unica riga? no sarebbe troppo fragile un uomo è più tranquillo quando sa che ce n'è un altro dietro due righe forse anche tre di fatto gli eserciti napoleonici combattono in linea quasi sempre su tre righe di uomini con tre righe tutti possono sparare certo quelli della terza riga appoggiano il moschetto alla guancia dei compagni davanti e magari li scottano sparando ma insomma questo succede la linea è questo e poi all'improvviso qualcuno grida cavalleria sta arrivando della cavalleria nemica e se la cavalleria nemica ti arriva addosso mentre sei in linea ti spazza via e allora gli ufficiali hanno imparato a memoria quali ordini dare e i soldati hanno imparato a memoria come eseguirli ognuno sa quali movimenti deve fare inquadrato è l'ordine partendo da destra o partendo da sinistra e gli uomini gli automi nell'ideale degli teorici militari gli automi della linea in pochi passi ridisegnano un'altra figura geometrica un quadrato un quadrato vuol dire che da tutte le parti ci sono soldati che guardano in lì col fucile in mano la baionetta in canna e la cavalleria da qualunque lato arrivi si trova davanti tre file di baionette e a quel punto se va tutto bene la cavalleria si ferma non per l'intelligenza dei cavalieri ma per l'intelligenza dei cavalli i quali non vanno a infilzarsi sulle baionette e poi la cavalleria è sparita si torna in riga si torna in linea voi capite che è fondamentale fare queste cose in pochi secondi la cavalleria ti arriva addosso in venti secondi tu in venti secondi devi essere passato dalla linea al quadrato poi arriva l'ordine attacchiamo noi e allora al tempo di Napoleone non si attacca più necessariamente stando in linea che andava così bene per sparare ma per andare avanti col nemico che ti spara addosso è bene che gli uomini sentano di essere protetti e in mezzo a tanti dei loro la psicologia appunto perciò all'attacco non si andrà in linea ma si andrà in colonna ammassati su molte righe di uomini un fronte più ristretto ma molte righe e tutti sanno che dietro di loro ci sono tanti dei nostri appunto che spingono avanti anche loro Tostoy è assolutamente consapevole dell'importanza che ha per il soldato in battaglia sentire che è dentro a un contesto riconoscibile che è diventato casa sua il suo reparto con tanti amici tutti intorno il soldato in marcia è circondato stretto e trascinato dal suo reggimento come il marinaio dalla nave sulla quale si trova per quanto vada lontano per quanto strane sconosciute e pericolose siano le latitudini che egli raggiunge come il marinaio ha sempre ed appertutto intorno a sé gli stessi ponti gli stessi cordami della sua nave così egli ha sempre egli il soldato ha sempre ed appertutto intorno a sé gli stessi compagni le stesse file lo stesso sergente Ivan Mitric lo stesso cane della compagnia Zucca gli stessi superiori e nel descrivere la battaglia di Austerlitz Talstoi comincia sottolineando appunto il senso di sicurezza che dà ai soldati il sapere che fanno parte di un esercito che sta muovendo all'attacco tutti insieme ora davanti ora di dietro da ogni parte i soldati venivano a sapere che le nostre colonne russe marciavano nella stessa direzione ciascun soldato si sentiva l'anima allegra perché sapeva che dove andava lui cioè chissà dove andavano anche molti molti altri dei nostri e dunque il segreto per mandare gli uomini alla morte è questo mandarli in tanti tutti insieme e tutti uguali però naturalmente c'è anche un'altra un'altra conseguenza che al tempo di Tolstoi non era forse stata ancora teorizzata ma comincia a esserlo a quell'epoca avete presente la psicologia delle masse la psicologia delle folle ecco tutti questi individui formano una folla e nella folla le sensazioni si trasmettono fulmineamente gli umori cambiano improvvisamente tutti gli individui cambiano di colpo atteggiamento sono cose meccanismi misteriosi ma evidenti e questo succede anche all'esercito russo ad Austerlitz quando le cose cominciano a non andare più come dovevano nella massa comincia a diffondersi prima l'incertezza e poi il panico i soldati marciavano allegramente di nuovo come sempre quando vanno al fuoco e specialmente in un'offensiva notate che Tolstoi evidentemente lo sa che il suo lettore arriccerà la fronte e dirà ma come allegramente perciò chiarisce che è proprio così e lui lo sa perché l'ha visto ma dopo aver marciato per circa un'ora sempre in una folta nebbia una gran parte delle truppe dovette fermarsi e corse per le file la sgradita consapevolezza del disordine e della baraonda che si stava producendo è molto difficile spiegare in che modo si propaghi questa coscienza ma è indubbio che essa si propaga con una sicurezza straordinaria e si estende rapidamente inavvertita e irresistibile come l'acqua in un borro a margine di tutto questo potrei anche tralasciare il pezzetto che sto per fare adesso ma insomma per essere fedele anche all'atteggiamento di Tolstoi alla battaglia di Austerlitz come sapete i russi non sono da soli ci sono i loro alleati gli austriaci cioè i tedeschi e Tolstoi non ha il minimo dubbio sul fatto che appena si diffonde fra i soldati russi la sensazione che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto la reazione immediata è ecco è colpa dei tedeschi tanta fretta di mettersi in marcia e stiamo qui fermi in mezzo alla campagna senza motivo sempre quei maledetti tedeschi a far confusione diavoli di balordi eh maledetti tedeschi non conoscono neppure il loro paese disse un altro poi passò un generale e gridò qualcosa rabbiosamente ma non in russo la fa la fa barà che cosa brontola non se ne capisce nulla disse un soldato rifacendo il verso al generale che si era allontanato io li fucilerei quei vigliacchi dopodiché tedeschi o non tedeschi l'esercito russo ad austerlitz viene attaccato di sorpresa dal nemico dove non se l'aspettava da una direzione inattesa e va in rotta la rotta è come quell'acqua che sale e che a un certo punto trabocca di colpo intere masse di uomini nello stesso istante sono prese dal panico i reggimenti di fanteria attaccati improvvisamente nella foresta scappavano via di là e le compagnie confondendosi le une con le altre si allontanavano in folla disordinata un soldato pronunziò nel suo spavento una parola insensata che in guerra è terribile ci hanno tagliati fuori e questa parola insieme con un sentimento di paura si comunicò a tutta la massa ci hanno circondati ci hanno tagliati fuori siamo perduti gridarono voci di fuggenti il comandante del reggimento nell'attimo stesso che udì dietro di sé i colpi di fucile e le grida capì che al suo reggimento era accaduto qualcosa di terribile cos'è il qualcosa di terribile non è il fatto che il nemico attacca qualcosa di terribile vuol dire che il reggimento si è trasformato in una folla in fuga tutta quella gente che è stata addestrata abbastonata a comportarsi come automi come i pezzi di un meccanismo e l'hanno fatto fino a un attimo prima di colpo ridiventano gli individui che compongono una folla e che pensano soltanto a salvarsi e a nient'altro non ci sono più addestramento ordini ufficiali niente quando un reparto va in rotta scappano tutti e per un bel po' non li ferma nessuno e quindi come vedete appunto la guerra consiste nella scommessa di portare la geometria nel caos e il caos è sempre lì in agguato in ogni momento il caos può esplodere e in realtà lo scopo del combattimento è precisamente questo trasformare il nemico da una forza compatta organizzata e geometrica in una folla spaventata che scappa è così che si vincono le battaglie la battaglia è vinta quando un'aliquota crescente di uno dei due schieramenti comincia a vacillare a ondeggiare a fare qualche passo indietro e poi a scappare e lo scopo del combattimento è quello non è di ammazzarli tutti i nemici che ti trovi di fronte ammazzare la gente è soltanto il modo più rapido per convincere gli altri a scappare le guerre napoleoniche hanno dei tassi di perdite nei giorni di battaglia spaventosi inimmaginabili in un giorno in una grande battaglia di napoleone moriva tanta gente quanto in settimane di combattimenti nella prima guerra mondiale noi siamo abituati a pensare alla prima guerra mondiale ai terrificanti assalti all'arma bianca contro le mitragliatrici e contro i reticolati che facevano in qualche giorno in qualche settimana di combattimento 20 50 100 mila morti e feriti ma una battaglia napoleonica poteva fare in certi casi 40 50 mila morti e feriti dalle due parti in un pomeriggio ma anche così si tratta del 20 25 per cento al massimo degli effettivi impiegati e perdite naturalmente non vuol dire morti soltanto ripeto vuol dire i feriti vuol dire quelli fatti prigionieri quelli che sono spariti perché hanno disertato e se ne sono andati quando un esercito napoleonico ha perso il 20 per cento dei suoi effettivi in un giorno di battaglia è un esercito stroncato o meglio quello dei due che avendo perso tutti questi ha deciso per primo di scappare è un esercito stroncato che per settimane e mesi sarà impossibile riportare al combattimento perché il morale è sparito e prima di ricostruirlo ce ne vuole dunque lo scopo di una battaglia napoleonica è questo vedete qui la battaglia napoleonica naturalmente nell'arte occidentale c'è una convenzione robustissima nell'arte occidentale classica come si rappresentano le battaglie e beh in primo o al massimo in secondo piano generali a cavallo in uniformi scintillanti circondati da messaggeri da aiutanti di campo e così via in primissimo piano qualche scenetta di genere l'eroico ferito circondato dagli amici e sullo sfondo la battaglia vera quella che in realtà se noi fossimo stati lì su un elicottero avrebbe riempito interamente il nostro quadro visuale non il gruppetto dei generali non la scenetta di genere ma sullo sfondo le masse di uomini tutti vestiti uguali che si muovono tutti insieme obbedendo agli ordini si muovono tutti insieme e quello che bisogna cercare di fare è gettarli nel panico come si fa per gettare nel panico il nemico che hai davanti immaginate in ogni battaglia in genere c'è uno che è più forte che vuole attaccare e uno che è più debole chi vuole attaccare a un certo punto comincia a pensare di spingere avanti parliamo della fanteria che è poi come dire l'ossatura di ogni esercito cominci a pensare di andare avanti il nemico è laggiù a un chilometro quando si decide che è il momento in un certo settore del fronte si comincia ad andare avanti si comincia ad andare avanti al tempo di Napoleone si sgranano anche piccole pattuglie di tiratori scelti i pochi a cui è stato insegnato a sparare bene e magari gli è andato anche una carabina rigata per poter tirare bene al bersaglio quando sono vicini al nemico tirar giù magari un ufficiale a cavallo oppure quello che porta la bandiera ma il grosso della truppa che attacca va avanti come vanno avanti quelli là in massa queste masse vanno avanti i tamburi dietro battono all'impazzata più tamburi ci sono meglio è perché quel frastuolo tono anestetizza ti impedisce di pensare ti dà una sorta di euforia di ubriachezza gli ufficiali in parte davanti in parte dietro quelli dietro a spingere avanti e quelli davanti a mandare avanti gli altri con l'esempio con la sciabola sguainata avanti 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 gridando ogni tanto nell'esercito francese l'imperatore vi guarda l'imperatore ricompenserà il primo che arriverà alle linee nemiche più spesso secondo le testimonianze più sincere bestemmiando orrendamente e gridando avanti sacro avanti figli di puttana avanti e si va avanti in massa e il nemico è laggiù in fondo e siamo a 500 metri e siamo a 200 metri i nemici hanno dei moschetti come i nostri che tirano con un minimo di precisione fino a 100 metri non di più se quegli altri degli ufficiali che non hanno i nervi saldi cominceranno a sparare quando siamo già ancora a 200 metri spareranno svaniranno nel fumo per qualche istante e noi non sentiremo neanche fischiare le palle perché siamo ancora troppo lontani se invece hanno degli ufficiali che conoscono il mestiere non spareranno quando siamo a 200 metri aspetteranno che siamo un po' più vicini quando siamo a 100 metri spareranno e qui noi siamo abituati a vedere dei film in cui la linea spara comparendone il fumo e tutta la prima fila di quelli che attaccano cadono a terra e quelli dietro vengono a prendere il loro posto gli altri sparano di nuovo cadono di nuovo tutti in prima fila credo che l'abbiamo viste tutti di ricostruzioni cinematografiche di questo genere se fosse stata così la realtà le battaglie napoleoniche sarebbero finite in dieci minuti non era così la realtà era così paradossale che adesso che io ve la dirò non ci crederete tuttavia vi assicuro che ci sono studi estremamente approfonditi fatti già all'epoca e poi fatti anche dopo sul rapporto fra il consumo di munizioni e le perdite effettive provocate i vari studi sono arrivati a cifre leggermente diverse forse il più attendibile sostiene che quando il nemico spara un proiettile ogni 459 colpisce qualcuno altri si tengono un po' più bassi un proiettile ogni 250 ogni 300 ma grosso modo è così è una massa di gente tenuta in linea dai suoi ufficiali che spara senza mirare che dopo il primo colpo sparisce nel fumo dopo il primo colpo devi ricaricare strappare con i denti la cartuccia già preparata che hai nel tascapane versare la polvere da sparo al posto giusto richiudere ficcare la pallottola dentro la canna da davanti su un fucile d'avancarica con la bacchetta di metallo o di legno che ti hanno dato pigiarla bene giù rimettere a posto la bacchetta puntare e sparare e poi ricominciare tutto il tuo addestramento tende a farti fare questa cosa il più in fretta possibile poter sparare almeno due tre volte in un minuto il tutto nel fumo con la paura mortale che prende attanaglia tutti con gli ufficiali che gridano con i tamburi di quegli altri che stanno venendo avanti che adesso li sentiamo anche noi li sentiamo urlare quegli altri che stanno venendo avanti in questo caos totale appunto le pallotte le vanno dappertutto tranne dove dovrebbero andare d'altra parte noi siamo arrivati a 100 metri davanti avevamo 500 uomini un battaglione anche noi siamo 500 quelli là sparano e sul nostro battaglione uno o due uomini vengono colpiti e cadono giù gridando andiamo avanti ancora 10 metri quegli altri hanno ricaricato sparano un'altra volta su 500 dei nostri di nuovo uno o due o tre adesso che siamo un po' più vicini cadono gridando a questo punto molto raramente gli ufficiali dicono avanti alla baionetta quasi sempre l'istinto di sopravvivenza è più forte ci fermiamo noi e cominciamo a sparare anche noi e si può anche andare avanti 10 minuti in questo modo perché ogni volta che si spara cade uno o due uomini però si spara tre volte al minuto dopo 10 minuti ci hanno sparato 30 volte hanno beccato 50 60 70 dei nostri e noi siamo 500 in 10 minuti uno su 10 è stato colpito a questo punto in genere uno dei due battaglioni comincia a vacillare l'ultimo ferito caduto due o tre compagni dicono lo portiamo noi in salvo gli ufficiali dietro tempestano bastonano col piatto della sciabola ma non riescono a fermarli a questo punto se dall'altra parte c'è un ufficiale che sa il suo mestiere dice è il momento avanti di corsa si viene avanti di corsa e gli altri si disgregano e scappano funziona così normalmente il fuoco serve a portare il nemico che hai davanti a quel punto in cui se eserciti una piccola pressione crolla tutto la geometria sparisce e il caos si afferma di nuovo poi c'è un altro modo per avvicinare il nemico al punto di rottura un modo che Napoleone conosce bene e anche Tolstoi conosce bene perché sono tutti e due ufficiali di artiglieria gli eserciti napoleonici sono pieni di cannoni i cannoni sono in uso fin dal rinascimento ma solo con Napoleone si integrano pienamente nella conduzione della battaglia solo con Napoleone ci sono cannoni abbondantissimi perché devono essere tanti un cannone da solo non fa niente solo con Napoleone ci sono cannoni relativamente veloci tirati da tanti cavalli che si possono spostare sul campo di battaglia con un minimo di possibilità tenete conto che un cannone pesa una tonnellata e dietro a ogni cannone ci sono dei cassoni carichi di munizioni un'infinità di cavalli i quali durante il combattimento vengono colpiti muoiono e dopo un po' i cannoni non li puoi più spostare perché hai perso i cavalli tuttavia i cannoni sono così tanti che incidono sulla battaglia la cosa principale del cannone è che se il moschetto fa male a 100 metri il cannone fa male a un chilometro e quindi prima di mandare dentro la tua fanteria con i tamburi le bandiere al vento e gli ufficiali che ballano davanti alle file incitando gli uomini e bestemmiando prima di far quello avrai portato in linea i tuoi cannoni e avrai sparato contro il nemico abbastanza a lungo da cominciare a portare i soldati nemici vicini al punto di rottura i cannoni sparano a un chilometro e possono sparare a palla o a granata la granata è la cosa più comune la conosciamo anche noi è i proiettivi del futuro quello che esplode e nei film ambientati nel 700 o nell'800 si vedono sempre solo quelle perché gli sceneggiatori quello hanno in mente in realtà le granate sono un po' più rare il modo più normale di usare il cannone è di sparare a palla la palla è una palla di metallo di piombo di ghisa che viene sparata da un chilometro di distanza verso queste masse di uomini fermi o anche che stanno avanzando se mi sto difendendo ma in generale Napoleone usa i cannoni per attaccare una volta deciso quale settore vuole investire con l'attacco prima per un'ora per due ore si bombarda un'infinità di palle di granate finiscono nel vuoto qualcuna colpisce quando una palla arriva addosso a un reparto schierato su più righe in fila la palla arriva spacca i corpi le gambe le braccia le teste di due tre quattro uomini e quelli che sono lì in fila le vedono arrivare le palle perché la velocità è molto bassa ci sono testimonianze di ufficiali che dicono alla battaglia di Waterloo per esempio che io ho studiato un po' più da vicino ci sono ufficiali inglesi che sono rimasti per ore sotto il bombardamento in prima linea con i cannoni nemici laggiù capite come tu stai tenendo una posizione vedi arrivare dei puntini a molta distanza siccome hanno l'occhio sanno calcolare grossomodo e un chilometro i puntini sono cannoni nemici speriamo che vadano un po' più in là no si fermano esattamente qua davanti a noi tra un po' cominceranno a sparare e in qualche caso se hai l'occhio appunto la palla la vedi addirittura arrivare c'è un ufficiale inglese a Waterloo che era un ragazzino giovanissimo ufficiale alfiere in piedi con la bandiera in piedi mentre tutti i soldati sono sdraiati a terra perché quando il nemico ti bombarda un ufficiale che abbia un po' di buon senso fa sdraiare a terra gli uomini spera o sedere per terra perlomeno sperando che offrano un pochino meno bersaglio ma gli ufficiali stanno in piedi perché devono morire per lo zar come diceva il colonnello e dare l'esempio ai soldati quell'ufficiale inglese racconta la battaglia di Waterloo ho visto una cosa che arrivava frusciando in mezzo al grano alto e poi quando è uscita dal campo di grano veniva proprio verso di me poi è caduta a una certa distanza e ha cominciato a rimbalzare e a rotolare perché la palla anche se è corta poi rimbalza e continua a venire avanti mi arrivava vicino rotolando sembrava una boccia dice questo ragazzino tanto che ho allungato il piede istintivamente per fermarla il sergente mi ha strattonato via e mi ha detto ma non sai signor alfiere che la palla gli portava via il piede perché anche se sembra così lenta come una boccia in realtà ha una forza tale che spacca tutto quello che tocca Tastoy è un ufficiale di artiglieria e gli ufficiali di artiglieria come anche gli artiglieri in genere sono dei tecnici sono gente che sa usare una macchina complessa sofisticata per l'epoca che richiede calcoli meccanismi ingranaggi e come tutti i tecnici sono orgogliosi delle loro conoscenze gli piace fare il loro mestiere c'è un passo in guerra e pace in cui Tastoy descrive una situazione in cui non è una battaglia i russi si stanno ritirando però il nemico viene un po' troppo sotto a un certo punto c'è una batteria ferma e si decide di provare a sparare qualche colpo per vedere se il nemico è già a tiro ebbene vediamo un po' fin dove porta capitano disse il generale rivolgendosi a un artigliere distraetevi un poco i serventi ai pezzi comandò l'ufficiale dopo un momento gli artiglieri accorsero allegramente dai loro fuochi e caricarono i cannoni numero uno si udì il comando il numero uno rinculò bravamente il cannone vibrò con un rumore metallico assordante la granata passò fischiando sulle teste di tutti i nostri che erano più sotto e molto prima di raggiungere il nemico mostrò col fumo il punto dove era caduta e scoppiò i visi dei soldati e degli ufficiali si fecero allegri a quel rumore dopodiché Talstoi racconta anche che cosa vuol dire trovarsi sotto il fuoco del cannone capite cosa significa significa che tu sei lì fermo i tuoi ordini sono di stare lì e il nemico ti spara di nuovo non sono armi come quelle di oggi oggi se un reggimento rimanesse sotto il fuoco di una batteria di artiglieria per qualche minuto verrebbe spazzato via allora non è così se sei fortunato il 90 il 99 per cento dei colpi vanno troppo corti troppo lunghi ma ogni tanto uno colpisce e può capitare di dover restare lì per delle ore è quello che succede al principe andrei alla battaglia di borodino il reggimento del principe andrei era fra le riserve che fin verso le due rimasero inattive dietro a Semyonovskoe sotto un forte fuoco di artiglieria verso le due il reggimento che già aveva perduto più di 200 uomini fu spostato in avanti su di un campo di avena calpestato in quel tratto fra Semyonovskoe e la batteria dove quel giorno erano stati uccisi migliaia di uomini e dove verso le due era diretto un fuoco intenso e concentrato di parecchie centinaia di pezzi nemici senza muoversi da quel posto e senza aver tirato nemmeno un colpo il reggimento perdette lì ancora la terza parte dei suoi uomini davanti e specialmente da destra i cannoni tuonavano in mezzo al fumo che non si dissipava e da quella misteriosa zona di fumo che copriva tutto il terreno antistante volavano senza posa le palle con un rapido fischio e le granate con un lento sibilo a volte come per dar riposo passava un quarto d'ora durante il quale tutte le palle e le granate volavano oltre ma a volte in un minuto cadevano parecchi uomini del reggimento e senza tregua si trascinavano via i morti e si raccoglievano i feriti ad ogni nuovo colpo sempre minori probabilità di vita rimanevano per quelli che non erano stati ancora uccisi tutti gli uomini del reggimento erano ugualmente taciturni e cupi di rado si udiva qualche scambio di parole fra le file ma anche quello taceva ogni volta che si udiva un nuovo colpo e il grido barella la maggior parte del tempo gli uomini del reggimento secondo l'ordine del comandante che è il principe andrei sedevano a terra chi si toglieva il che pi e ne allargava accuratamente e spianava le pieghe chi sbriciolava in mano dell'argilla asciutta e ripuliva la baionetta chi si levava il cinturino e stringeva la fibbia tutti sembravano assorti in queste occupazioni una volta l'attenzione generale si rivolse a un cagnolino marrone con la coda fieramente levata che comparso dio sa di dove correva con trotto preoccupato davanti alle file dei soldati e a un tratto a una granata che colpì vicino mandò uno strido e abbassando la coda si gettò da una parte per tutto il reggimento si levarono schiamazzi e strilli ma distrazioni di questo genere duravano qualche minuto e gli uomini da più di otto ore stavano lì senza mangiare e senza far nulla sotto l'incubo incessante della morte e i visi pallidi e accigliati diventavano sempre più pallidi e accigliati il principe andriei al pari di tutti gli uomini del suo reggimento accigliato e pallido passeggiava in su e giù per il prato che costeggiava il campo di avena da un limite all'altro con le mani dietro la schiena e il capo basso non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare tutto si faceva da sé i morti erano trascinati dietro lo schieramento i feriti erano tolti via le file si riformavano ecco la battaglia napoleonica quindi non è soltanto come dire la carica ubriaca con i tamburi che rullano le bandiere al vento che pure era un momento abbastanza terribile non è solo lo star fermi aspettando il nemico che viene avanti aspettando l'ordine di sparare non è solo la carica di cavalleria ma è anche questo star fermi chiedendosi chi sarà il prossimo ma fin qua abbiamo parlato di combattimenti ora il combattimento è soltanto uno degli elementi del discorso della guerra ed è perfino un momento abbastanza raro le guerre durano molti mesi all'epoca di napoleone e i giorni di battaglia sono singoli giorni che ogni tanto punteggiano una vicenda che invece si svolge in tutt'altro modo una vicenda che vuol dire marciare e aspettare e annoiarsi e poi di nuovo marciare e mangiare se va bene se no fare la fame e poi di nuovo marciare marciare è fondamentale perché la guerra si vince portando le tue truppe laddove le vuoi portare più in fretta del nemico portare più gente di quella che loro riusciranno a portare lì indovinare dove vuole andare il nemico e arrivarci prima di lui i soldati di napoleone scherzavano dicendo l'imperatore non vince mica le battaglie con le nostre braccia le vince con le nostre gambe ed era abbastanza vero la velocità di movimento la precisione degli ordini che dicono quale strada bisogna prendere e dove bisogna arrivare è uno dei segreti della vittoria di napoleone delle vittorie di napoleone ma anche dall'altra parte anche dalla parte dei russi la guerra vuol dire marciare dalla parte dei russi in modo particolare perché noi stiamo raccontando all'inizio abbiamo raccontato appunto la battaglia di schongraben tastoi racconta la battaglia di austerlitz siamo nell'attuale repubblica tra l'austria e la repubblica cieca e l'esercito russo è arrivato lì dalla russia a piedi prima ancora di poter cominciare a combattere l'esercito russo ha fatto per mesi a piedi la strada dalla russia fino in occidente e naturalmente è un esercito che marcia per tutte quelle migliaia di chilometri per tutti quei mesi e ogni sera i soldati devono trovare da mangiare e da bere e ci deve essere da mangiare per i cavalli e quando le scarpe sono rotte devono arrivare delle scarpe nuove e quando le divise sono a pezzi dovrebbero arrivare divise nuove io su questo non mi fermerò molto ma tenete conto che tenere in campo un esercito è un enorme sforzo amministrativo e logistico che ovviamente comporta grandiosi appalti grandiosi profitti uno dei modi più rapidi per arricchirsi è quello delle forniture militari prendi gli appalti poi più segatura metti nel pane più guadagni ovviamente gli appalti sono sempre al ribasso e quindi più cartone metti nelle suoi delle scarpe e più guadagni dopodiché l'organizzazione dello Stato deve mandare tutta questa roba di terza qualità ai soldati e fare in modo che non muoiano di fame e non rimangano scalzi la storia di questo ne parla c'è una scena in particolare che adesso non vi sto a leggere sarebbe troppo lunga ma che è emblematica anche di un altro dei problemi della vita militare e cioè il fatto che non sei mai sicuro di fare la cosa giusta e non sei mai sicuro di aver capito cosa vogliono da te i superiori qual è la storia? è la storia alla vigilia della battaglia di Austerlitz di un reggimento russo che arriva al fronte e questo reggimento appunto è in condizioni disastrose per questa interminabile marcia la sussistenza degli alleati dei cari alleati austriaci i tedeschi appunto doveva fornire scarpe nuove perché il reggimento è scalzo dopo tutti quelle migliaia di chilometri le scarpe nuove non sono arrivate e appena arrivato il reggimento e appena accampato la sera dove doveva accamparsi arriva l'ordine domani mattina il comandante in capo Kutuzov vuole passarvi in rassegna a questo punto il colonnello del reggimento raduna gli ufficiali e discutono cosa dobbiamo fare dobbiamo presentarci così come siamo o dobbiamo presentarci in alta uniforme perché ogni soldato nello zaino ha come dire il lucido e tutti i pezzi di ricambio la divisa di lusso tutto nello zaino e il consiglio dei comandanti di compagnia decide no se passa il comandante in capo a passarci in rassegna presentiamoci in alta uniforme e per tutta la notte i soldati distrutti dalla stanchezza stanno lì a pulire lucidare sistemare ogni singolo pezzo di equipaggiamento il mattino dopo il reggimento sembra appena uscito da Pietroburgo scintillante d'oro e di decorazioni l'unica cosa che non hanno potuto rimediare sono le scarpe le scarpe sono a pezzi e non c'è modo di averne di nuove perciò il colonnello è molto preoccupato arriva il generale Kutuzov accompagnato dai generali austriaci passa in rassegna le file e continua a indicare ai generali austriaci le scarpe a pezzi dei soldati i soldati scarsi scalzi scusate il colonnello è angustiatissimo poi per fortuna il comandante in capo se ne va senza aver fatto nessuna critica quello che non sapeva il colonnello era che Kutuzov voleva mostrare il reggimento agli alleati austriaci per far vedere che le truppe austriache le truppe russe erano in condizioni disastrose e non potevano assolutamente affrontare il combattimento era necessario ritirarsi e riposarsi per un sacco di tempo prima di combattere quindi Kutuzov desiderava che il reggimento fosse nello stato peggiore possibile ma il colonnello non poteva indovinarlo per fortuna c'erano le scarpe e quindi almeno su quelle e le scarpe erano appunto il frutto del fatto che l'esercito aveva marciato per mesi a piedi sulle pessime strade della Russia e dell'Europa centrale la guerra dunque è marcia fatica cammino strade la guerra è fame perché la roba che dovrebbe arrivare oltre a essere sempre di terza qualità spesso non arriva e la fame e le malattie sono in realtà il vero motivo per cui la maggior parte dei soldati muoiono o finiscono in ospedale in guerra in tutte le guerre di quest'epoca nelle guerre napoleoniche come nella guerra civile americana quando ormai abbiamo delle statistiche e le statistiche sono terrificanti ma anche ancora nella prima guerra mondiale nella prima guerra mondiale che pure è così distruttiva su 600.000 morti che ha avuto l'esercito italiano si stima che almeno 100.000 siano di malattia nelle guerre napoleoniche o nella guerra civile americana la proporzione è ribaltata la maggioranza di quelli che muoiono in guerra muoiono di malattia il reggimento di Pavlograd e il reggimento di Ussari in cui in cui serve Nicolai Rastov uno dei protagonisti della generazione giovane del romanzo il reggimento di Pavlograd negli scontri aveva avuto soltanto due feriti ma per la fame e le malattie perdette quasi la metà degli uomini negli ospedali si era così sicuri di morire che i soldati febbricitanti e gonfi per il cattivo nutrimento preferivano fare il loro servizio trascinandosi a stento al loro posto piuttosto che andare negli ospedali già da più di una settimana era stato razionato l'ultimo resto di biscotto e se ne dava soltanto mezza libra a testa e le patate mandate con l'ultimo convoglio erano gelate e germogliate i cavalli già da più di una settimana si nutrivano soltanto con la paglia dei tetti delle case erano orribilmente magri e coperti ancora dell'arruffato pelo invernale questo significa anche un'altra cosa significa che un esercito in movimento saccheggia tutto il territorio attraverso cui passa è inevitabile ed è impossibile impedirlo ci possono essere ordini draconiani i soldati ovunque portano via tutto entrano nei pollai portano via le galline ammazzano il bestiame in genere i contadini se ne vanno quando si avvicina un esercito e a maggior ragione i soldati entrano nelle case tirano giù le intalaiature delle finestre e le porte per accendere il fuoco sul pavimento e portano via tutto quel poco che i contadini possono aver dimenticato questo viene fatto sistematicamente anche se nessuno lo vuole nel senso che questa è un'epoca civilizzata in cui i civili vengono rispettati in cui assolutamente nessun comandante si sognerebbe di organizzare rappresaglie contro i civili a meno che non ti sparino addosso ecco loro per primi in cui la guerra è una guerra che fanno quelli in uniforme e non c'è come dire non ci sono quelle atrocità spaventose che caratterizzeranno invece le guerre del novecento certo ci sono insurrezioni di contadini e allora rappresaglie e fucilazioni ma nell'insieme è un mondo che si illude di poter fare la guerra in modo civilizzato ma quando arriva un esercito scappano tutti lo stesso e qui Tostoi comincia a introdurre un tema che a lui è estremamente caro con cui vorrei chiudere questa questa lezione è il tema di che cosa devono fare i generali Tostoi ha idee molto sue e molto particolari su questo riassumendole poi vedremo un po' più in dettaglio l'idea di Tostoi è meno fa un generale meglio è perché tanto la guerra è un caos totale nessuno ci può capire niente nessuno la può padroneggiare il buon generale è quello che asseconda le cose e le lascia andare per il loro verso e così mettendo in scena a un certo punto la campagna del 1812 presenta una vignetta in cui Kutuzov di nuovo comandante in capo ascolta i rapporti dei suoi ufficiali ascolta sonnecchiando a un certo punto si addormenta proprio Tostoi è contentissimo è quello che deve fare un generale sono tutte cose inutili quei rapporti il solo ordine che durante quel rapporto Kutuzov diede di sua iniziativa riguardava i saccheggi delle truppe russe che sono in Russia e saccheggiano naturalmente il generale di servizio alla fine del rapporto presentò a sua altezza serenissima Kutuzov principe una carta da firmare relativa alla somma che avrebbero dovuto pagare certi comandanti di truppe di linea sull'istanza di un proprietario per certa avena verde che era stata tagliata i soldati tagliano il grano nei campi anche se non è ancora maturo non importa moriamo di fame i proprietari chiedono l'indennizzo la richiesta di indennizzo fa il suo percorso burocratico arriva sul tavolo del comandante in capo Kutuzov dopo aver sentito di questo affare schioccò le labbra e scosse la testa gettalo nella stufa nel fuoco e te lo dico una volta per tutte colombello disse tutte queste pratiche gettale nel fuoco che taglino grano e bruciano legna a piacimento queste cose non le ordino né le permetto ma non le posso punire è impossibile impedirle quando si spacca la legna i truccioli volano che è non so se qualcuno di voi se lo ricorda da un altro contesto questo è un antico proverbio russo già in corso evidentemente al tempo di Tolstoi ed è un modo di dire che tornerà di moda e che si sentirà continuamente quando in epoca staliniana quando la gente finisce in lager per un niente per un non nulla e il commento è appunto quando si spacca la legna volano le schegge come dire non c'è niente da fare i casi individuali non possono essere presi in considerazione dicevo che Tolstoi è convinto che il comando è una cosa assolutamente inutile e che i buoni generali sono quelli che non fanno niente li rappresenta più volte quelli che lui considera i migliori generali russi appunto Kutuzov il principe Bagration che seguono l'andamento della battaglia e a ogni rapporto che arriva dicono va bene così va bene così quel reggimento si è ritirato no va bene va bene e dice Tolstoi tutti intorno a loro traggono fiducia e sicurezza da questa tranquillità del comandante che deve essere appunto l'unica cosa che il comandante dimostra ne deriva che Tolstoi è estremamente sprezzante verso una certa categoria di persone cioè me e quelli che fanno il mio mestiere gli storici i quali hanno il vizio di raccontare le guerre dicendo il generale decise questo ordinò quell'altro commise quell'errore sbagliò a ordinare di prendere quella strada anziché quell'altra Tolstoi è sicurissimo che queste sono tutte frottole non funziona così e c'è un bel esempio è un po' lunghetto ma ve lo leggo perché è bellissimo di quello che è davvero secondo lui quella che è davvero la situazione del comandante che in teoria dovrebbe prendere una decisione e dare un ordine gli studiosi militari ci dicono con molta serietà che Kutuzov doveva dirigere l'esercito sulla strada di Kaluga e non su quell'altra che invece poi hanno preso e che anzi qualcuno aveva proposto questo disegno ma un comandante in capo specialmente in un momento difficile ha davanti a sé non un disegno solo ma sempre delle decine a un tempo e ognuno di questi disegni basati sulla strategia e la tattica ne contraddice un altro sembrerebbe che l'opera del comandante in capo dovesse consistere soltanto nello scegliere uno di questi disegni neppur questo egli può fare gli eventi e il tempo non aspettano mettiamo che il 28 gli propongono di passare sulla strada di Kaluga ma intanto arriva un aiutante di campo del generale Miloradovic a domandargli se si debba impegnare subito l'azione con i francesi o ritirarsi egli deve impartire l'ordine subito immediatamente e l'ordine di ritirarsi ci distoglie dal passare sulla strada di Kaluga e dopo l'aiutante di campo è l'intendente che chiede dove debba portare i rifornimenti e il capo del servizio sanitario che chiede dove debba portare i feriti mentre un corriere porta da Pietroburgo una lettera dell'imperatore che non ammette la possibilità di abbandonare Mosca e d'altra parte un rivale del comandante in capo quello che gli mina il terreno sotto i piedi e di persone simili ce n'è sempre non una ma molte propone un nuovo disegno diametralmente opposto al piano di passare sulla strada di Kaluga e intanto le forze del comandante in capo richiedono un po' di sonno e di ristoro e un rispettabile generale saltato in una distribuzione di ricompense viene a lamentarsi e gli abitanti del paese supplicano di essere difesi e un ufficiale mandato a esaminare i luoghi riferisce assolutamente il contrario di ciò che ha detto l'ufficiale mandato prima di lui e un informatore un prigioniero e un generale riduce da una ricognizione descrivono tutti in modo differente la posizione dell'esercito nemico non c'è niente che dia più fastidio a Tolstoi degli storici militari che credono che gli avvenimenti di una guerra si possano descrivere come una sequenza di ordini liberamente dati dalla mente geniale del comandante geniale o meno geniale a seconda di quanti errori fa non c'è niente che gli dia più fastidio del culto del grande generale del condottiero e siccome dà fastidio a Tolstoi dà fastidio anche al principe Andriei che di tanto in tanto è uno dei portavoce dell'autore siamo di nuovo a uno scambio di idee fra il principe Andriei con il suo cinismo e la sua freddezza lucida e l'ingenuo ed entusiasta amico suo Pierre Besuchov parlano del nuovo comandante in capo nominato dallo zar dicono che sia un condottiero abile disse Pierre non capisco che cosa significhi un condottiero abile disse con ironia il principe Andriei condottiero abile disse Pierre ma sì è colui che prevede tutti i casi sì che indovina i pensieri dell'avversario ma questo è impossibile disse il principe Andriei come se la questione fosse risolta da un pezzo Pierre lo guardò con meraviglia eppure si dice rispose che la guerra sia simile al gioco degli scacchi sì disse il principe Andriei ma con questa piccola differenza che al gioco degli scacchi prima di ogni mossa puoi pensare quanto vuoi che là sei fuori dalle condizioni di tempo non usavano ancora gli orologi da campionati del mondo di scacchi evidentemente e ancora con questa differenza che il cavallo è sempre più forte della pedina e che due pedine sono sempre più forti di una mentre in guerra un battaglione qualche volta è più forte di una divisione e qualche volta è più debole di una compagnia la forza relativa delle truppe non può essere conosciuta da nessuno che è di nuovo il discorso del morale il morale degli uomini è quello che decide se in mille scapperanno davanti a cento oppure no è quello che decide chi scappa per primo e questa cosa non si può sapere fino a quando non lo vedi succedere questo almeno è quello di cui è convinto Tolstoi e dunque non c'è scienza della guerra non c'è ragionamento possibile sulla guerra non c'è descrizione possibile della guerra che non sia la descrizione di un caos incomprensibile dove le cose avvengono perché avvengono per effetto di una somma di forze caotiche che nessuno padroneggia ben inteso io non sono lontano dal supporto che tosto esageri tuttavia qui sto raccontando che cosa pensava lui e che cosa scrive in guerra e pace e lui in guerra e pace scrive questo naturalmente questo implica anche per un russo una speciale soddisfazione perché i grandi esperti della scienza della guerra sono i tedeschi e quindi a maggior ragione Tolstoi può prendersi il piacere di descrivere questi assurdi tedeschi c'è la grande scena del consiglio di guerra prima della battaglia di Austerlitz dove Kutuzov dorme gli altri generali russi si guardano intorno con impazienza e un generale tedesco austriaco legge in tedesco il complicatissimo ordine di operazioni che è stato stabilito per fare in modo che ogni singolo reparto esegua esattamente gli ordini previsti per essere come dire ancora più antipatico Tolstoi lo mette in tedesco l'ordine del giorno mezza pagina di erste colonne marschiert di zweite colonne marschiert eccetera eccetera mentre intorno tutti dormono si guardano tamburellano guardano l'orologio aspettano che finisca napoleone sarebbe stato in parte d'accordo certo napoleone non era d'accordo che non ci fosse il grande generale il grande generale quello che prima degli altri indovina quello che guarda e indovina la sono più deboli la stanno cominciando a vacillare in quel punto lì se forziamo lì crolla tutto questo era il genio di napoleone il resto era organizzazione lavoro duro lavorare sulle carte geografiche col compasso le tabelle l'orologio la bussola ragionare su tutto sui movimenti sui spostamenti sui tempi poi però il colpo d'occhio napoleone però sarebbe stato d'accordo che è inutile fare piani complicati prima della battaglia non c'è dirà nessun piano che resista dieci minuti dopo l'incontro col nemico la guerra del resto è una di quelle situazioni non ce ne sono molte a quel livello forse nella vita economica di oggi qualche situazione simile c'è ma non credo a quel livello la guerra è l'attività umana in cui tu cerchi di fare qualcosa e davanti a te c'è qualcuno il cui unico scopo nella vita è di impedirtelo e allora è inutile programmare chi gli chiedeva come si fanno i piani di battaglia napoleone rispondeva si comincia e poi si vede tutto questo naturalmente chiudiamo e scusatemi se vi ho tenuti così a lungo implica anche un giudizio l'ho già accennato ma ridiciamolo sul lavoro dello storico al di là del disprezzo che Tolstoi ha per la categoria degli storici militari è innegabile che aveva capito molto bene una cosa le testimonianze di quelli che erano lì che sono uno dei fondamenti del nostro lavoro e della ricostruzione dei fatti sono sempre inaffidabili qui si vede proprio Nikolai Rostov il quale dopo il suo primo la sua prima scaramuccia Schengraben la battaglia con cui abbiamo cominciato partecipa anche Nikolai partecipa a un combattimento contro la cavalleria nemica e poi dopo naturalmente racconta raccontò la sua azione di Schengraben proprio come di solito raccontano una battaglia coloro che vi hanno preso parte cioè come avrebbero voluto che fosse andata come ne hanno sentito parlare da altri narratori come è più bella da raccontare ma niente affatto come è stata e Tolstoi si dilunga dice Nikolai era un ragazzo sincerissimo non avrebbe mai detto una bugia ma non c'è niente da fare aveva troppe immagini in testa troppo conosceva le aspettative degli interlocutori alla fine il racconto doveva essere così Nikolai continuerà a fare la guerra anche negli anni successivi continuerà a raccontare ma come dire con un po' più di pudore man mano che capisce Rostov dopo la campagna di Austerlitz e quella del 1807 sapeva per sua propria esperienza che raccontando fatti di guerra tutti mentono come mentiva egli stesso quando li raccontava poi aveva abbastanza esperienza per sapere che in guerra tutto accade in modo ben diverso da come lo possiamo immaginare e raccontare un po' desolante perché fa il mio mestiere evidentemente tuttavia dobbiamo tenercelo per detto cosa rimane rimane il fatto che però a fare la guerra sono esseri umani con la loro mentalità i loro sentimenti le loro idee le loro parole e quelle cose lì si possono provare a conoscere come li conosceva benissimo Tal Stoi chiudo con una lettura che ci riporta da dove siamo partiti in mezzo ai soldati in mezzo alla visione del mondo alle idee semplici alle parole dei soldati siamo durante l'inseguimento dei francesi in ritirata durante la campagna di Russia oggi se ne sono presi abbastanza di francesi e non ce n'è uno che abbia delle vere scarpe a dir la schietta di scarpe non hanno che il nome disse uno dei soldati hanno preso tutto i cosacchi hanno ripulito l'isba per il colonnello e li hanno portati via fanno pena a vedere ragazzi disse un soldato li hanno spogliati uno era vivo ancora all'uso suo ma è gente pulita ragazzi disse il primo bianchi ecco bianchi come la betulla e ce ne sono di valorosi e di nobili e tu cosa credi lui lui è Napoleone naturalmente lui li ha presi da tutte le categorie e non capiscono niente di quel che diciamo noi disse il primo con un sorriso di stupore io dico di che paese siete e lui borbotta la sua maniera strana gente è una cosa buffa amici miei continuò quello che si stupiva della loro bianchezza i contadini raccontavano sotto Majaisk come avevano cominciato a togliere via i morti dove c'era stata la battaglia e sai che cosa dicevano figurati dei morti loro erano stati lì per un mese ebbene dicevano che erano bianchi come il cotone puliti e senza nessun odore sarà stato per il freddo domandò uno come sei furbo per il freddo ma se faceva caldo se fosse stato per il freddo anche i nostri non si sarebbero guastati e invece ti avvicinavi ai nostri e dicono che erano pieni di vermi tanto che dicono ci si tappava il naso col fazzoletto e si portavano via voltando il muso da un'altra parte non si poteva mica far diverso e loro dicono bianchi come il cotone e nessun odore tutti tacquero deve essere per via del mangiare disse il sergente mangiavano da signori nessuno obiettò diceva quel contadino là a Majaisk dove ci fu la battaglia che mandarono uomini da dieci villaggi e che per venti giorni portarono via i morti e non li portarono via tutti fu una vera battaglia quella disse un vecchio soldato c'era di che raccontare ma dopo è stato soltanto per tormentare la gente davvero zio ieri l'altro li abbiamo attaccati beh non aspettano che si arrivi fino a loro subito buttano via i fucili e in ginocchio dicono pardon questo è un dettaglio autentico e confermatissimo in combattimento gli altri ti arrivano addosso e ti ammazzano con una baionettata o con una sciabolata ma se uno si arrende in linea di massima le buone abitudini richiedono di risparmiarlo il modo normale di arrendersi nelle battaglie napoleoniche non è tanto di alzare le mani quanto di buttarsi in ginocchio e gridare pardon che è un termine tecnico vuol dire grazia per chi si arrende ecco ti solo un esempio raccontano che Plato leggendario Ataman dei Cosacchi per due volte ha preso proprio polione ma non sapeva la parola magica lo ha preso lo ha preso ma ecco che nelle sue mani diventa un uccello vola via e vola via e anche di ammazzarlo non c'è modo sei bravo a spacciare frottole Kiselyov ma che frottole è la pura verità se avessi potuto fare a modo mio dopo averlo pigliato lo avrei messo sotto terra con un palo di tremolo avete presente nella cultura slava l'idea del vampiro del morto vivente che ritorna e che per eliminarlo definitivamente bisogna trafiggerlo con un piolo nel cuore ecco Napoleone o polione come dicono i soldati come appunto una specie di vampiro quanta gente ha rovinato la faremo finita lo stesso e non la scapperà disse sbadigliando il vecchio soldato la conversazione finì e i soldati si accomodarono per dormire guarda quante stelle e come luccicano si direbbe che le donne hanno steso la biancheria disse un soldato ammirando la via Lattea vuol dire ragazzi che l'annata sarà buona grazie 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 professor Barbero come sempre non si riescono a fermare grazie a tutti grazie professor Barbero come sempre per la sua semplicità per la sua passione per il suo entusiasmo io mentre lei parlava ho osservato i visi di questo teatro così pieno che pendevano veramente dalle sue labbra quindi grazie moltissimo tra poco il professor Barbero sarà a vostra disposizione nelle foie del teatro diamo qualche avviso professore come sempre si fa innanzitutto vi ricordo che le lezioni possono essere acquistate anche in abbonamento ci rivediamo domenica prossima con Alberto Maria Banti e la morale borghese partiremo da Madame Bovary vi ricordo anche un'altra cosa la prossima settimana parte la stagione al teatro d'Use con il grigio di Elio e per chi presenterà un biglietto della rassegna romanzi nel tempo ci sarà una riduzione grazie moltissimo grazie ancora una volta al professor Barbero che ovviamente non vediamo l'ora di poter riascoltare vi aspetta nelle foie noi ci rivediamo domenica prossima grazie arrivederci a tutti